Crescere nel discernimento è un cammino, ecco il tema sinodale, dobbiamo abbandonare una rappresentazione statica di ciò che è vivo e quanto ha affermato Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano Loionio a conclusione dell'Assemblea diocesana. La prima nascita, ha evidenziato, è stata un dono assoluto puramente da ricevere, la nuova nascita che la fede rende possibile non sarà mai senza di noi. Ecco la missione materna della Chiesa, ecco le sue doglie e il suo travaglio. In questa speranza vogliamo sentirci avvolti, ha proseguito Monsignor Savino e lo dico perché rimanga bene impresso specialmente ai ragazzi e agli adolescenti il cui malessere aumenta e si manifesta con accenti sempre più inquietanti. La pandemia li ha travolti e il contesto culturale li bombarda di stimoli e ne stravolge i desideri per farne fragili consumatori. Cristo è risorto per tutti, ha precisato, guardando ai giovanissimi come ai poveri fra i poveri, non poveri di intelligenza, di cuore, di potenzialità. In questo ci superano. Amiamoli, ha esortato, mettiamoci al loro servizio. ...che sono colpite soprattutto...